Era stata confermata la sorveglianza speciale dal 19 marzo scorso e di notte doveva rimanere in casa, invece è stato trovato in giro dai carabinieri della stazione di Torbella Monaca, per giunta accompagnato da un altro pregiudicato. È stato così nuovamente arrestato Giuseppe Moccia, personaggio di spicco della criminalità organizzata affiliato all'omonimo clan e considerato il boss di Torbella Monaca. Ed è proprio nel quartiere popolare in via dell'Arcologia che venerdì notte nella nostra piazza di Spaccio è stato trovato in compagnia di un altro soggetto con precedenti penali. Nella realtà, oltre all'obbligo di soggiorno nel Comune di Roma, il Tribunale Capitolino aveva stabilito che sarebbe dovuto rimanere a casa dalle 20 alle 7 del mattino successivo, provvedimento motivato da atteggiamenti minacciosi e prevaricatori manifestando comportamenti di aperta sfida verso i suoi interlocutori e le vittime delle sue condotte, vantandosi del suo passato criminale. Per la palese violazione è così scattato l'arresto e dopo la convalida, con il rito direttissimo, è arrivata la condanna ad un anno di reclusione. Giuseppe Moccia è stato rimesso in libertà ma ha sottoposto all'obbligo di presentazione in caserma tutti i giorni e in due fasce orarie differenti. A settembre del 2021 Giuseppe Moccia, la Mari e la compagna erano tra gli occupanti abusivi di uno degli appartamenti Ater di Torbella Monaca fatti sgomberare dal Comune di Roma.